Questo ordine del giorno, nelle premesse, dichiara che la Regione Liguria nega l'intesa, l'utilizzo ancora di fossili, carbone e gas per la produzione di energia nell'area Elner di Spezza che ha già dato da 60 anni. E nell'impegna attiva mira a quelli che sono i livelli occupazionali attuali di quest'area ed anzi a rilanciarli. Una vera riconversione dell'area, tesa a garantire questi livelli occupazionali ma soprattutto a rilanciare nuove attività. E questo grazie ad un incontro tra le amministrazioni locali ed Enel per vedere di partire con questi nuovi importanti progetti. Grazie.